Il tema scuola infiamma il dibattito politico a Polla. Nei giorni scorsi il gruppo di opposizione Forza Polla si era detto contrario alla riapertura dei cancelli per l'infanzia e le prime elementari, proponendo quindi di posticipare il ritorno tra i banchi alla luce di alcune considerazioni, il numero di contagi che interessa il comune, l'impossibilità da parte di tutto il personale scolastico e degli alunni di effettuare lo screening, l'impossibilità da parte dei bambini e troppo piccoli di tenere il giusto distanziamento interpersonale. Chiedevano quindi di riaprire a gennaio per poter permettere alle famiglie di trascorrere in serenità il periodo natalizio. Il comune di Polla ha confermato la riapertura della scuola e i bambini sono tornati oggi a fare attività didattica in presenza. Le valutazioni medico-scientifiche degli organi preposti specificano dal comune ad oggi non hanno rilevato motivi ostativi alla riapertura delle scuole e ribadiscono che l'attuale situazione epidemiologica non offre sufficienti motivazioni per adottare decisioni diverse rispetto a quanto contemplato nelle indicazioni regionali. Ieri mattina intanto a Polla si è svolto uno screening su base volontaria del personale scolastico proprio per individuare eventuali positivi e i 37 test effettuati hanno dato tutti esito negativo. Sono state adottate, assicurano infine dalla Casa Comunale, tutte le misure per rendere sicuro, confortevole e accogliente il rientro in classe degli alunni. Resta fermo l'impegno dell'amministrazione di monitorare costantemente l'evoluzione del contagio per poter assumere tempestivamente le opportune determinazioni.